In cui il professor Dino Madori è giunto un po' sottotente, perché non aveva bisogno di noi, ma aveva bisogno della Romagna, aveva bisogno dell'Istituto Meldola, aveva bisogno del mondo intero. Salute e Santa Zedè! Dear Professor Amadori, from Muller Fabry in the City of Angels, Happy Birthday! Beh, parlo in inglese, ma come sa, sono italiano, ed è soprattutto grazie a lei, che ha sempre creduto in me sin dall'inizio, che ho la possibilità di fare questa incredibile esperienza di vita e professionale. Buonasera, professor Amadori, un saluto a tutti. Sto qui nel mio dispaccio della Clinica Università di Navarra, in patologia, e faccio questo video, parlo a desearle un felice compleanno. In Italia, diciamo, Happy Akozariwa, in inglese, diciamo, Happy Birthday! In italiano, diciamo, Buon Compleano! Vi auguriamo a te, professor, una buona vita! Io vi prendiamo a te, signale, non trascendere nella mia esperienza. Diciamo a te, sono ancora una buona vita! Io te ringrazio, insieme a tutti in Italia! Meso, besta, insieme a tutti,